Benvenuti a Lipari. Lipari è un'isola dell'arcipelago vulcanico delle isole e ollie nel mar Tireno vicino alla Sicilia. L'isola contiene la città di Lipari e anche quattro villaggi, Piano Conte, Quattro Pani, Acqua Calda e Canetto. Fu creata da un vulcano, cioè ha un'abbondanza di roccia pomice. Infatti, l'industria mineraria della pomice è un'industria molto importante a Lipari. Il Museo Archeologico Regionale Eoliano è situato nel Castello di Lipari e ha varie mostre della preistoria, dell'archeologia e della paleontologia. È stato costruito durante la Seconda Guerra Mondiale. Il castello ha fortificato la città durante il XVI secolo quando Carlo V fece costruire la sua struttura. Qui si trova la cattedrale di San Bartolomeo nel mezzo della collina. È l'edificio più vecchio nel castello, ma fu ricostruito nel corso degli anni dopo tante invasioni e guerre. Se si visita Lipari, si devono vedere le spiagge. Il mare sembra verde a causa della pietra pomice e si può vedere una buona vista dalle montagne. Lipari è conosciuta per la sua vita fuori, con i scenari bellissimi e il clima mediterraneo. La maggioranza dei ristoranti e dei caffè sono all'aperto, dove si può mangiare la cucina eoliana squisita, come la caponata e il carpaccio. I capri, i pomodori, il tono, i calamari, le cozze e le melanzane sono tipici nei piatti siciliani e eoliani. Sapevate che Bartolo Valastro è di Lipari? Si potrebbe parlare di lui come Buddy o Cake Boss. La famiglia Valastro è famosa per la sua lunga e ricca tradizione nella produzione di pane e di dolci a Lipari. Anche la mia famiglia viene da Lipari e io non vedo l'ora di visitare quest'isola e di imparare qualcosa di più della sua cultura e della sua storia. Grazie.